5 4 3 2 1 vai 50 stai a sinistra per tornante destro 50 alla casa accenno sinistro per accenno destro stretto 50 accenno sinistro molto lungo in accenno destro 30 a rail alto destra in anticipa sinistra 3 per sinistra 2 al cartello tornante sinistro 50 tornante destro per alla casa ritarda tornante sinistro in destra 2 50 sinistri dopo strettoia sinistra 2 50 affinerei il tornante destro in sinistra 2 per sinistra 2 30 alla legna sinistra 4 in destra 3 stretta 50 destra 4 per sinistra 5 50 misti dopo dosso destra 4 20 destra 4 per molta attenzione destra in sinistra 2 in anticipa destra e sinistra 4 50 misti sui allora accenno destro per sinistra 3 20 molta attenzione sinistra 2 in ritardo destra 2 lunga gira chiude al palo per sinistra 2 per sinistra 2 gira lunga per destra 3 per destra 4 alle case strettoia 20 stai a sinistra per inversione attenzione sinistra in sinistra in destra 2 per destra 5 lunga per cartello molta attenzione destra 2 50 a rail ritarda sinistra 2 gira lunga esci destra eh scusa niente esci destra su dosso 50 per destra 3 100 dopo stop dopo stop molta attenzione sinistra 2 scende per sinistra 3 per ritarda destra 3 gira per ritarda sinistra 3 molto lunga gira molta attenzione chiude i garage in destra 3 per alle zebri destra 2 doppia in sinistra 2 e destra 3 per destra 2 per destra 2 per anticipa sinistra per anticipa sinistra e destra 3 per accenno sinistro in destra 50 tornante sinistro tornante destro tra barra a berzo fine sul tornante Grazie.